amici per la pelle sul teleschermo blu sono in un ritardo mostruoso quasi più della lion che ormai invece del giovedì arriva il venerdì ma non arriva il venerdì arriva il lunedì infatti comparirà in questo video sono di ritorno dal paese dei balocchi non è vero e mi appresto a far vedere veramente a raffica perché sono obberato di impegni tutte le novità che sono arrivate tra venerdì e quest'oggi quindi comprendono un po tutte le più grandi case editrici italiane comincio con jpop che ci presenta il numero 2 di armed girls machiavolism 5 euro e 90 storia di yuya kurokami e art by karuna kanzaki sempre sempre sopra copertinato sempre sempre ottime edizioni jpop qualcuno di voi ha letto il numero 1 io non ce l'ho fatta mi faccia sapere prosegue la sua corsa anche rikdo 6 euro volume numero 7 un ragazzo che non ha niente può solo lottare per sopravvivere e andiamoci a vedere un po di questi disegni fantastici veramente ottimamente realizzati di toshimitsu matsubara eccolo qua fico 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 niente niente male rikdo pure è da recuperare in iru si chiude qui il ciclo di questa storia abbastanza particolare con esseri che arrivano da un'altra parte del mondo cioè con un'astronave piombano sulla terra la distruggono poi ricompaiono poi acchiappano modificano un po di esseri umani li rendono armi umane e chi più ne ha più ne metta comunque devo finirlo ma mi sento almeno avendo letto i primi dei numeri di consigliarlo secondo numero anche per andare capelli rossi 2 di 3 se non vado errato prezzo 4 ore e 50 proprio come Iniru eccolo qui il manga tratto all'omonimo romanzo che è ispirato alla serie tv disponibile su netflix ma chi non si ricorda il cartone animato di Anna dai capelli rossi va apa apa na 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 volevà come una rondine ecco com'era ma un nido non ce l'ha e c'è yumiku igarashi e si 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 yumiku igarashi poi naruto color numero 38 prosegue la sua corsa pure lui 3 euro e 50 quindi andiamo belli veloci e belli sparati poi torniamo questo è planet manga torniamo alla jpop con innocent rouge volume 5 prezzo 6 euro lo stesso autore di the climber shinichi sakamoto disegni di una qualità notevolissima e anche in questo caso sovraccoperta e voilà c'è pop quanto ci piace prosegue kingdom uno dei manga più venduti in giappone e a volte forse un po sottovalutato in italia speriamo che la jpop ristampi i numeri mancanti per dare la possibilità a tutti quanti di recuperare questo veramente come definirlo manga interessantissimo da recuperare assolutamente il luogo in cui tornare si intitola il prezzo è di 6 euro e 90 yasui sa yasui sa hara la carta forse non è bianchissima ma insomma rende comunque merito a questa opera poi ritorna leggenda di arslan eccola qua dall'autrice di full metal alchemist la harakawa giusto era harakawa il romu harakawa si la riconquista di parts passa per lo scontro fra i due principi tatatata ecco a voi uno spaccato di questo manga 4 euro e 50 che è tratta da alcuni romanzi non mi ricordo poi dallo stesso autore invece di soliter se non vado errato ecco qua file force che arriva al numero 7 4 euro e 50 il eccolo qua il manga tutta azione al generatore di soliter e andiamo con i vigili del fuoco particolare un po particolare ma molto sghicis niente male ho letto il primo numero di questo tanya of the evil dopo il successo del primo numero arriva il number 2 6 euro e 50 planet manga sovraccopertinato anche lui sul campo di battaglio nelle retrovie nel fango di una trincea o nello sfarzo di una sala da ricevimenti in città tanya daggersha 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 sa sempre come distinguersi per abilità e intelligenza ma come può una ragazzina alla sua età dimostrare tanto coraggio e tanta spietatezza a cara tanya mostraci la spietatezza eccolo qua anche questo appunto dicevo sovraccopertinated planet manga 6 euro e 50 ripetita yuma poi arriva la parodia di kenny guerriero numero 4 eccolo qui ichigo agi prezzo 4 euro e 50 la sindrome di fine secolo ha coinvolto persino i ragazzi e le ragazze nate nel ventunesimo secolo a voi capirei perché eccolo qua mi dicono che ci siano grasse risate all'interno con una citazione di cobra eccolo qua i mille colori dell'amore arriva il numero 7 4 euro e 90 questo giro un manga che ha per protagonista il destino ed eccolo qua di ai minase si vede minase si vede il minase si vede sicuramente il minasone poi cross arriva il nuovo tp 15 euro avatar press panini comics confessioni di una mente scrociata eccolo qui contenuti abbastanza tosti all'interno e poi abbiamo una pubblicazione la bau di nova stelle o sparo eccolo qui prezzo 17 euro la gente va a ritrovare se stessa nei posti più assurdi tipo l'india il tibet posti enormi cioè secondo me se ti cerchi in un posto piccolo magari ti trovi e secondo me c'hai pure ragione cara nova facciamo vedere a me piace molto questo tratto di nova chissà se sarà presente all'arfe tra le altre cose vi ricordiamo che il forbidden planet sarà presente questo fine settimana all'arfe e se volete scoprire tutte le offerte che porteremo all'arfe dovete venire là perché saranno valide solo in fiera freccia verde volume 5 eccolo qui che contiene i numeri dal 25 al 31 di green arrow guerra tra clan il titolo esatto è outsiders war jeff lemire e il nostro andrea sorrentino del quale facciamo vedere un po di segni gustosissimi rv lion eccoli qua proseguiamo poi con lo spillatino numero 17 di doctor who prezzo 2 euro e 95 l'avventura del dodicesimo dottore testi robbie morrison e disegni rachel stott che eccolo quote perfetto e andando avanti abbiamo il bel tippi che raccoglie rinascita di wonder woman eccolo qui 13 euro e 95 non male e ci sono le parti che erano contenute in wonder woman 2 2 4 6 8 10 12 e 14 che erano due storie diverse e quindi andavano divise sui diversi numeri dello spillatino e qui ci sono raccolte le storie pari giusto giusto esattamente vediamo un po anno 1 parte 1 da wonder woman proprio numero 2 va bene ecco qua non dice altro abbiamo ruka nico scott e romulo facardo junior prezzo 13 95 l'ho detto poi justice league america per rinascita arriva al numero 12 prezzo 3 euro e 95 tra le altre cose in america ultimamente il buon jim lee ha smentito voci di un ennesimo reboot ma in realtà ci stiamo avvicinando alla all'era di bendis nell'universo nell'universo di sì che dovrebbe avvicinarsi al monto di superman tutto quello che gira intorno 3 euro e 95 con tre ricche storie all'interno ed eccolo qua superman arriva al numero 34 prezzo 3 euro e 75 tomasi glison jurgens che più ne ha più ne metta 3 storiellone e questo è un po dell'interno voilà proseguiamo sempre a mazzarocca batman il cavallero scuro che contiene metal sarebbe il numero 14 4 euro e 95 ragazzuoli e ci abbiamo un botto di gente da snyder tieri tini un quarto larson benson poi c'è dentro capullo federici e mamma mia quanta gente andiamoci a vedere un po dei disegnetti che mica male albo coloratissimo e gustosissimo questo metal ed ecco qua anche la variant che dovrebbe avere una spilla incorporated che non a portata di mano ovviamente e più arrivano anche gli antenati i flintstones che raccoglie i numeri che vanno dall'uno al sei con il team creativo di mark russell e steve puke ok perfetto dalla cittadina di bedrock ecco a voi fred e wilma flintstone con la figlia ciottolina e loro vicini di casa i rubble e i loro amici aiutanti e elettrodomestici dinosauri tutti loro sono una pagina di storia perfetta per rappresentare la nostra confusa ingannevole e alienante era e qui ve li potete gustare riccamente poi sono passati dieci minuti quindi devo accelerare tesori made in italy arriva al numero 8 ci sono ben sei storie e sono dedicate questo volume è dedicato a massimo di vita altro gigante è della disney italiana e non solo grandi me grande massimo di vita prezzo 6 euro e 90 il secondo volume di briggs land dopo che il primo ha riscontrato un notevolissimo successo bd comics qui in italia un fumetto da dark horse 15 euro briggs land oltre 150 chilometri quadrati di america rurale sotto il totale controllo della famiglia briggs una comunità di secessionisti antigovernativi e nerdist ci dice che briggs land è una saga americana al cento per cento che dovete assolutamente leggere e questi sono i disegni a voi io ancora non avuto il modo di leggerlo io come faccio come faccio che non c'ho tempo mannaggia la miseria e a voi cattivic arriva al numero 10 attenzione 19 euro e 90 sicuramente grosse e grasse con risate contenute all'interno questo volume per panini comics panini che ci propone anche questo mini puma master eccolo qui le grandi storie dell'orrore a 25 euro prima della marvel comics c'era l'atlas che negli anni 50 pubblicava storie dell'orrore e di tanti altri generi per un pubblico di ragazzi contiene episodi tratti da strange tales journey into mystery menace tales of suspense vampire tales and crazy scritti e disegnati da stanley jack kirby e steve ditco e tanti altri che vedevo di di più questo must have assolutamente un po come murena finalmente esce di nuovo 14 euretti per tutti quelli che amano le storie dell'antica roma guardate che spettacolo sono disponibili ancora i due volumoni in integrale giganti belli 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 e dufeux e de la vie sempre panini comics sempre panini continua la miles morales spider-man collection eccolo qua che contiene spider-man 2016 dal numero 6 al numero 11 14 euro la guerra di miles bendis leon e pichelli segreto svelato ma no ma non ce lo dite non ci svelate nulla non ci svelate nulla noi siamo completamente all'oscuro ma che dici ma che dici ma che dici ce l'hanno svelato e vabbè poi la bao ci porta il secondo volume di orfani nuovo mondo prezzo 27 euro e non credo che io debba aggiungere nulla sulla creatura qua di recchioni e mammucari coloratissimo gigantissimo sostanziosissimo poi dart vader numero 34 eccolo qua panini comics 3 euro e 20 console camoncoli gillen e walker tra le altre cose come ho scritto sulla pagina facebook del tg comics sono riuscito a vedere the last jedi e ancora devo metabolizzarlo poi arriva il sedicesimo numero di spider gwen che è diventato più cicciottello sale di prezzo a 9 90 all'interno la tour rodriguez coelio thompson e bugley questi sono i disegni voilà spider gwen è un personaggio che mi ha sempre attirato dal successo che riscuote mi incuriosisce chissà che non riesca a recuperarlo visto che mi sono un po riavvicinato alla marvel mobile e all'interno sono sei storie se non vado errato sei storielle poi avengers arriva al numero 99 meno uno al numero 100 vedete marvel legacy qui in alto il prezzo è di 3 euro e 90 quando i mondi si scontrano wade pigna diaz e wing zub e izax e sono ben quattro storiellone eccolo qua l'ho spillato e ora questo ancora mi manca perché del legacy ho cominciato a leggere capitano america l'uomo ragno e iron man ma mi avvicinerò presto ad altre d'estate molto probabilmente poi wolverine arriva al numero 31 3 euro e 20 scarlet samurai all'interno vecchio loganex tre storielline eccole qua e niente male disegni pure all'interno non vi dico nulla ma molti di voi già sapranno chi ritornerà deadpool al cinema sta riscuotendo notevole successo non hai guagliato il primo ma comunque nel weekend ha incassato 301 milioni di dollari una cavolata proprio una cosa così una sciocchezzuola arriva il numero 109 il prezzo è di 3 euro e 20 e due storie all'interno joshua corin will robson ai disegni ed eccolo qua tutto tutto colorato colorato e qui laminato prosegue marvel legends con le cover iconiche iconicissime a prezzo di 5 euro e 99 in questo caso abbiamo nick fury agente dello shield e qui c'è un bello steranco poi abbiamo pacco roca con confessioni di un uomo in pigiama 15 euro e poi un uomo in pigiama avventure di un uomo in pigiama dal pluripremiato autore di rughe dopo memoria di un uomo in pigiama ecco gli altri due e quest'altro è 14 e 90 ben 10 centesimi di differenza tra l'uno e l'altro ne faccio vedere uno a campione pago roca che secondo me è un grandissimo grandissimo narratore recuperate se potete qualcosa la fabbrica dei corpi sempre bavo ritorna di eloise cochua si dirà come si riparavano i corpi nell'antichità che cos'è un arto fantasma fino a che punto potremmo trasformare il corpo umano per migliorarlo tra racconto intimo avventura scientifica state per scoprire una delle sfide più avvincenti mai vinte dalla medicina attenzione prezzo 18 euro ed ecco qua un po dell'interno oltre che del corpo umano anche del volume via proseguiamo tiriamo fuori un food wars finalmente riprende la sua corsa con la goen a 4 euro e 50 numero 19 è inutile vi faccio vedere i segni di food wars e children of the whales arriva finalmente al numero 5 star comics 5 euro e 90 sono sicuro che prima o poi sogneremo tutti insieme ma va bene non c'è nessun problema possiamo pure sognare su queste genti che cavalcano queste navi giganti in mare di sabbia e poi non ricordo erano balene delle specie di balene su mare di sabbia rainbow c'è pure la serie televisiva rainbow days numero 15 prezzo 4 euro e 30 minami mizuno eccolo qui star comics arriva al numero 15 e poi abbiamo il diciannovesimo di uscio e tora prezzo 8 euro volume in formato perfect edition al prezzo di appunto dicevo 8 euro e dovrebbe infatti essere il volume conclusivo tatatatan un sorriso a denti smaglianti e sbagliati di tora poi un po di master wars abbiamo il quinto degli x-men a 28 euro e il numero 2 degli inumani dopo un po di tempo finalmente ritornano 28 euro anche questo qui poi un paio di monster allergy collection il numero 9 e il numero 10 al prezzo di 12 euro ciascuno autori vari ma intanto anche monster allergy è talmente famoso che tutti quanti voi più o meno dovreste conoscerli andiamo avanti andiamo avanti con la spada selvaggia di conan capitolo 1985 parte prima 25 euroni all'interno flasher qua simons e chan tatatatan ce fa pure rima non c'entro più per far vedere per far vedere il materiale devo appoggiarli da qualche parte lì dietro eccolo qua arriva finalmente la seconda parte chiamiamola così di legacy dell'uomo ragno che corre pure lui verso il numero protondo al settecentesimo siamo lì 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 e dopo la caduta le parker industries in monen e slot ci porteranno ancora avanti anche se immagino proprio l'ho presa proprio cannata su questo numero c'è zarsky cubert david e slaney e giustamente se c'erano tre numeri di amazing spider-man su quell'altro non potevano essercene altrettanti su questo qui però bisognerà pur leggerlo le storie sono infatti tratti da peter parker the spectacular spider-man anche qui trend numbers prezzo 3 euro e 50 poi scusate la tosse ancora non è passata vita da paperi arriva al numero 3 e prosegue la numerazione di wak che sarebbe il 37 prezzo 5 euretti con svariate storie all'interno credo un bel botto 2 4 6 8 e passa storie sicuramente di grande 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 qualità poi mi levo uno sveglione super puma master ecco qua top albano topolino e la giara di caridi francesco artibani e paolo mottura guardate che spettacolo formato gigantissimo a 25 euro ma i formati giganti non finiscono qui perché c'è pure dracula di bram top care guardate che branda 30 euro in questo caso bruno enna fabio celoni mircandolfo e luca merli super 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 giant poi abbiamo una produzione la tono e i conigli eccolo qui 17 euro una ricca e inquietante allegoria per tutte le età e tutte le culture i conigli arrivarono molti antenati fa costruirono case crearono strade ed ebbero bambini abbatterono gli alberi un intero continente di conigli e john martin e shauntan vediamo un po ecco guardate che spettacolo questa illustrazione veramente stupenda bella 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 dai 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 che ce la facciamo vediamo se riesco a fare un cambio no usa uber alles edizione cosmo 6 euro e 90 ritorno alle storie di guerra progetto aurora storie ucroniche peco masà e vernei per me verni vernu eccolo qua ve lo gustate tutto quanto queste vanno sempre che è un piacere stra stra vendute coco nino press con i nuovi progetti abbiamo uccida la fidanzata se non vado errato uccida sciunghi si uccida sciunghi con l'autrice autore non lo so non me lo chiedete la fidanzata di minami perdonate mi sono arrivato 15 eurozzi eccolo qua questo non so credo siano le nuove linee lanciate dalla conduzione di ratiger a capo della coconino fandango e qui abbiamo di condoro achino condo achino il mondo degli insetti non ne ho presa una con la coconino mi scuserà 15 euro anche questo volume andiamo a vedere questi disegni che mi piacciono particolarmente molto interessanti decisamente interessanti poi 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 acchiappiamo un po di materiale da far vedere al volo dead tube numero 6 j pop 6 euro comincia l'episodio video da 15 secondi attenzione giunge al termine il terrificante episodio sull'isola deserta grosse grosse sensazioni questa serie che un pochino ha diviso ma nutre sempre un grandissimo seguito da casci casci eccolo qui arriva il numero 8 prezzo 6 euro sempre j pop poi the promise neverland vediamo come andrà avanti se sarà in grado di acchiappare la mia attenzione dopo che c'è stata una piccola svolta nel numero 2 prezzo 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 5 90 poi attenzione il cavaliere del drago di fuoco berserk a questo è il romanzo ragazzuoli il film romanzo ambientato nel mondo di berserk scritto da makoto fukani già coordinatore della sceneggiatura della nuova serie animata dedicata al guerriero nero e illustrato lo stesso creatore di berserk entaro miura questo romanzo racconta le origini del gigantesco gurn belt cavaliere al servizio di griffiths attenzione andiamo che becchiamo qualche qualche illustrazione così da farvi vedere eccola qua romanzotto romanzotto da 12 euretti poi a caigiu arriva al numero 19 sempre j pop 5 euro e 90 per le vostre amate tematiche orrorifiche e poi abbiamo un bel volume su mattotti eccolo qua della edizioni comicon il prezzo dovrebbe essere all'interno 15 euro vedete il spettacolo mattotti con le sue illustrazioni veramente grandioso e poi rush finale rush finale a chiappo un altro po di manga abbiamo la color full color edition di dragon ball il numero 5 6 euro e 90 per la saga ancora di goku da bambino sales at work numero 2 primo numero che è andato molto molto bene devo dire 4 euro e 50 sempre star comics poi a suaru arriva al numero 10 4 euro e 30 star poi abbiamo babel 2 the returner eccolo qui prezzo 5 euro e 90 di nuovo star to love who darkness numero 16 prezzo 4 euro e 70 poi ritorna dopo tanto tempo anche silver spoon sempre con la harakawa protagonista 4 euro e 90 e chiudiamo con un numero 1 della j pop monster girl attenzione di kazuki funatsu e qui vedo subito un bel carcio assestato in faccia così con delicatezza e tanto 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 amore qui c'è qualcosa che non posso farvi vedere questo si è più fattibile l'ho detto prezzo 6 euro con anche pagine a colori all'inizio benissimo non ho più la voce sono arrivato allo stremo delle forze con questo ho detto tutto quanto saluto gli amici di mega nerd ragazzuoli ci vediamo all'arf perché non so se riuscirò a fare un altro video novità questa settimana magari facciamo un po' di intervistine lì in fiera vi farò e vi darò aggiornati sia sul canale youtube che sulla pagina facebook del tg comics ci vediamo allora lì con tutte le mega offerte iscrivetevi ovunque spammate ovunque commentate facciamo una bella comunità che vi devo dire vi saluto le battaglie sono tante viene avanti mattatoio gigante perché l'arfa si tiene al mattatoio e che il cipi di merlo vegli sempre su di voi portateci da mangiare da beve se becate perché noi siamo degli zozzoni ciao ciao